I vigili del fuoco del nucleo investigativo antincendi operano da questa mattina all'ospedale di Ribera. Dovranno eseguire tutti gli accertamenti disposti dalla magistratura e quindi verificare la situazione soprattutto all'interno dell'ala del fratelli Parlapaiano, l'ala del reparto di medicina dove si è sviluppato ieri sera l'incendio che ha causato una vittima. È soltanto un'ala del reparto di medicina che è inagibile. Nel resto del reparto l'attività come ha confermato questa mattina anche il direttore sanitario del fratelli Parlapiano di Ribera, Salvatore Cascio, va regolarmente avanti. Sono una quarantina complessivamente i pazienti ricoverati nel nosocomio di Ribera. Sono già stati effettuati i primi accertamenti, altri verranno effettuati nelle prossime ore in tutta la struttura, ma ripetiamo è soltanto un'ala del reparto di medicina, quella interessata dalla inagibilità e quella nella quale si è sviluppato ieri sera l'incendio in cui ha perso la vita il romeno brustreano Costica di 51 anni. Gli accertamenti dovranno verificare anche la dinamica di quello che è accaduto, ma secondo una prima ricostruzione, mentre gli stavano somministrando l'ossigeno, si sarebbe tolto la mascherina e acceso una sigaretta. La scintilla purtroppo ha fatto esplodere il macchinario e da lì è nato il vasto incendio. Già ci si interroga sui tempi, prima per l'esecuzione dei lavori e poi per la riapertura di quest'ala del reparto di medicina. Bisognerà capire anche quali saranno le valutazioni tecniche da parte di un ingegnere strutturista che, come ci ha riferito il direttore Cascio, verrà nominato dall'ASP, però secondo una prima ipotesi, verificando anche i tempi degli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria e poi quelli necessari per l'esecuzione dei lavori, entro qualche mese la situazione anche in quell'ala del reparto di medicina del Fratelli Parliapiano di Ribera dovrebbe tornare alla normalità. Questa mattina abbiamo intervistato il sindaco di Ribera, Matteo Rubolo, che ieri sera è stato tra i primi ad intervenire, era impegnato nella processione, stava seguendo la processione del venerdì santo a Ribera quando gli è arrivata la notizia e quando è arrivato subito in ospedale. Ascoltiamo Matteo Rubolo. Sindaco, lei ieri sera è stato tra i primi ad accorrere. Che situazione ha trovato e adesso qual è la situazione dell'ospedale? Sì, subito dopo le 20 è arrivata una telefonata e mi hanno avvisato, ero impegnato per la processione del venerdì santo, quindi mi sono precipitato in ospedale, ho trovato già i vigili del fuoco presenti, le fiamme, il fuoco era stato già domato, ho trovato i carabinieri, la polizia, ho parlato anche con il direttore sanitario che era presente, con gli operatori sanitari, ho chiesto informazioni e voglio cogliere l'occasione di ringraziare gli operatori sanitari che sono stati lucidi e tempestivi nell'intervenire, perché già le fiamme le avevano inizialmente domande gli operatori sanitari, gli infermieri che hanno trasportato gli altri quattro pazienti ricoverati nel reparto di degenza B del reparto di medicina, li hanno trasferiti nell'altra ala del reparto e hanno tentato, fatto di tutto per poter intervenire anche nel paziente che purtroppo invece non ce l'ha fatta e voglio esprimere il mio cordoglio ai familiari, ai parenti del deceduto. Le cause dell'incendio chiaramente andranno accertate, anche se vengono avanzate già delle ipotesi molto concrete. Le chiedo a proposito del pieno ripristino dell'attività dell'ospedale di Ribera, con riferimento naturalmente a quest'ala che al momento rimane inagibile, perché nel resto della struttura viene svolta tutta l'attività. Sì, sì, la struttura per il resto funziona, la chirurgia è l'altra ala della medicina, è stata sottoposta a sequestro quest'ala del reparto di medicina, sui tempi dovremo aspettare intanto le verifiche effettive, c'è un sequestro giudiziario quindi dovranno concludersi tutte le verifiche, dopodiché ci sarà la verifica strutturale da parte dei tecnici dell'ASP e si capirà entro quanto tempo anche questa potrà essere rifunzionalizzata e diventare operativa nuovamente. È possibile ipotizzare che comunque nell'arco di qualche mese la situazione dovrebbe tornare a normalità anche in questa area interessata all'incendio? Io me lo auguro, sono certo che si farà di tutto perché completate e chiuse le indagini e tutte le verifiche strutturali l'ASP disponga subito di intervenire e di ripristinare quanto prima anche quest'altra ala. Ripeto, i pazienti che erano là presenti, gli altri quattro sono stati trasferiti nella degenza A e non hanno avuto se non un momento di panico e di shock ma stanno bene e per il resto la struttura è pienamente funzionante.